Piero, alla fine sei riuscito a scrivere un libro a cui tenevi da tanto tempo? Sì, è un pezzo che sto provando a scriverlo e finalmente ce l'ho fatta. Il titolo è con Piero in giro in moto per l'Italia. Praticamente l'ho scritto perché molti mi domandavano la mia avventura, più o meno le tappe, quindi ho deciso di far conoscere questa mia bella avventura a tutti. Una bella avventura, vissuta con chi? Vissuta con Gian Piero, infatti è grazie a lui che ho potuto fare il viaggio e di conseguenza scrivere il libro. Questo libro chiaramente è anche una scommessa da mettere in campo per far capire che volere è potere. Sì, infatti il messaggio è questo, il messaggio è quello di credere ai sogni perché delle volte magari i sogni così si mettono nel cassetto e non si crede più nei sogni, però delle volte sono i sogni che vengono da noi, tendo a cercarli. E tu l'hai cercato nel tuo cuore? Io, vabbè, era tanto tempo che volevo fare un giro in moto, infatti io dove andavo a Giambiero mi fa fare un giro così per Cratone e lui mi ha detto guardi molto bellissima, all'inizio sembrava uno scherzo, poi invece è diventata realtà. Quali sono le tappe che tu ricordi con più passione, con più amore, con più soddisfazione? E allora ogni tappa mi ha lasciato un ricordo indelebile nel mio cuore perché ci sono state tappe dove si è scherzato, si rideva, tappe dove veramente delle persone ti facevano capire il vero senso della vita, no? E ti davano la forza per andare avanti. Piero, ti ha cambiato un po' la vita questo viaggio? Sì, come no, realizzare un sogno non è da tutti. E la moto per me è simbolo di libertà, come ho scritto nel mio libro. Quando sono sulla moto mi sento libero. E questo è sicuramente un bel risultato e un insegnamento anche per tante persone. Sì, infatti ho voluto far capire alle persone di non mollare mai perché se veramente ci credono in qualcosa prima o poi ci riusciranno.